L'RT che oscilla attorno ad 1.2 riconsegna l'Abruzzo al colore arancione dopo due settimane in giallo. La decisione ufficiale arriverà, come sempre, dal monitoraggio della cabina di regia domani, ma i dati in crescita di questi giorni avevano già fatto capire in che direzione si sarebbe andati. L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, se come da prassi sarà firmata sabato, farà scattare l'arancione da domenica. La virulenza e la velocità di trasmissione in questa terza ondata, anche per l'incidenza della variante inglese, soprattutto nell'area metropolitana, è ben maggiore della seconda che ha colpito la regione a novembre. Per arrestare la corsa del virus e la risalita degli indicatori, che altrimenti porterebbero l'intera regione in zona rossa, occorre intensificare sforzi e applicazioni di comportamenti corretti, dice in una nota la regione Abruzzo, che nel frattempo, nella serata di ieri, ha emanato una nuova ordinanza, valida per i prossimi 14 giorni, che impone il divieto di ingresse ed uscita nei comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare, e per i comuni di Gesso Palena, Torrevecchia, Carsoli, Pianella, Bucchianico e Giulianova, la sottoposizione a monitoraggio intensivo, lo stesso che si sta già facendo e che sarà prolungato a Chieti. Domani mattina il Comitato Tecnico Scientifico Regionale tornerà a riunirsi per proseguire nel monitoraggio costante dell'andamento epidemiologico e per valutare anche l'opportunità di prorogare o no la zona rossa per i comuni di Attessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria, sulla base dei contagi registrati nella settimana trascorsa.